Ricette simpatiche fatte insieme Preparazione 65 grammi di crackers non salati sbriciolati Un pizzico di sale Un pizzico di pepe 150 grammi yogurt greco Cren quanto basta Prezzemolo quanto basta 1 cipolla dorata tagliata Fettine sottili 400 grammi macinato di manzo che aggiungo sale e pepe quanto basta Unisco la carne macinata Con il condimento che ho preparato prima Uso la carta da forno su una teglia per poi aggiungere olio d'oliva extravergine e appoggiarci le polpette che ho fatto in precedenza Sulla carta da forno con l'olio aggiungo quanto basta di zenzero in polvere Cottura in forno preriscaldato statico a 200 gradi celsius per 20 minuti da un lato 20 minuti dall'altra Preparazione condimento 200 grammi cipolla dorata che taglio a fettine sottili 100 ml olio d'oliva extravergine a fuoco basso Mentre rosolp la cipolla tolgo la buccia alle patate che pesano 300 grammi tagliate a piccoli pezzi Una volta che la cipolla è rosolata aggiungo le patate Sale grosso quanto basta 300 grammi zucchine tagliate a pezzetti Quando le cipolle e le patate sono quasi cotte aggiungo le zucchine sempre a fuoco basso Metto il coperchio e cuocio per 15-20 minuti a fuoco basso 300 grammi pomodori против Hawaiian A conclusione Per conclusione della cottura delle verdure aggiungo i pomodori tagliati a pezzetti e cuocio per altri 10 minuti. 1 melanzana di 300 grammi la taglio a piccoli pezzi. La melanzana una volta tagliata la frigo e poi l'aggiungo alle verdure già cotte. Dopo 40 minuti di cottura delle polpette cotte al forno le aggiungo alle verdure già cotte. Aggiungo alle verdure già cotte le polpette e le faccio insaporire per 10 minuti a fuoco basso col coperchio. Alla fine un giro d'olio d'oliva e poi servo calde le polpette. Alla fine un giro d'olio 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 d'olio. Alla fine un giro d'olio 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 d'olio. Alla fine un giro d'olio 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 d'ol